Ah sì, ieri non ho potuto fare il video perché sono stato in gita. A proposito di gita, io mi sono ritirato ieri alle 7.30. Ma c'era un problema e mi faceva male troppo la gamba, ho camminato tanto e non ho potuto fare il video e mi sono divertito. Beh, ma non parliamo della gita, oggi parliamo di un bel merlo che è seduto ed è il Romeo. Saluta il Romeo, è seduto, ve lo faccio vedere. Vedete come vi guarda ragazzi? E' seduto. Questo video del titolo si chiamerà il merlo seduto. Romeo è un bravissimo merlo. Vedete come vi guarda? Che carino il mio merletto. Vedete come fa con le ali? Si sta azzando. Ah, ora si è di nuovo seduto come se fossi covando. Ma non è un nido, questa è una sbarretta, vedete? Bravo Romeo. Ora è di nuovo in piedi. Ma questo video si chiamerà il merlo seduto. Romeo, fatti vedere. Bravo. Fatti vedere. Bravo. Quella è la sua ciotola. Eh, che carino il mio merlo. Romeo. Come dicevo, questo è il mangime per i merli. Questo è un indiano, lo vedete? E non è il merlo che c'ho. Il merlo che c'ho è questo qui. Il merlo, quello normale. Quello indiano invece c'ha una striscia gialla. Qua ci sono le scritte. E questo è il mangiare, vedete? Come dicevo, è il mangime. E qua c'è scritto il gran basto pelletato nero. Mangime completo per uccelli insettivoli. Alimento completo per uccelli insettivoli. Destinazione alimento per uccelli insettivoli. Istruzioni per l'uso. Sommistrare il prodotto a volontà lasciando sposizione l'acqua fresca pronto all'uso. Composizione cubetto tritello di frumeto tenero, gran turco, farina di soia e salce, farina di erba medica, di strato, postato, bicalcio, carbonato, di calcio, cloro, di sodio, olio e grassi, carboni, vegetali. Adattivi tecnologici conservanti. E, no, questo no. L'ho detto, questo è il cubetto di farina, soia e carubio, carbonato. Sì, l'ho detto, qua è un'altra lingua. Il mangime è pronto. E adesso vi inquadro il Romeo. Romeo, guarda. Ok. Guardate, il mio merlo Romeo sta scendendo ora. Ovviamente forse a far. Se sentite il rumore è fuori, è fuori. È fuori. Ho delle voci, sono fuori, non sono io. Eh, vi inquadro il mio merlo. Guardate che carino. Eh? E quello è il mangime nella... Romeo guarda i ragazzi. Che bello. Non è il Romeo che parla. E sono fuori. Ancora gli devo insegnare se parla. Ah! Ditemi nei commenti di YouTube o di Facebook. E se i merli normali posso parlare. Qua vedete nel becco c'è il sangue. Poverino. Non so come gli sia successo. O è il merlo indiano o il merlo che parla. Non lo so. Scrivete nei commenti di YouTube oppure Facebook. Ok. Guardate, vi sta salutando. Erroromeo. Vi ha schiacciato anche gli occhi. Che carino. Sei un bravo merlo. Romeo. Hai sonno? Date cosa fa. Si pulisce. Tutti si puliscono. E anche lui. Date come si pulisce. O l'altro. Avete notato che nel quiz di Jurassic World 2 diceva che i dinosauri discendono dagli uccelli ed era vero. Perché hanno gli artigni come i dinosauri gli uccelli. Perciò il mio merlo è un dinosauro in miniatura. E noi ancora non lo sappiamo che è un dinosauro. Ma è un dinosauro. In miniatura, ok? Adesso... vi saluto il mio merletto. Guardatelo. vi sta salutando. Vero Romeo? Vedi che vi sta salutando. Ok. Ciao Romeo. Bene ragazzi. Spero tanto che questo video sul mio merlo seduto vi sia piaciuto. iscriviti al mio canale se vi è piaciuto il video e ciao ciao da viaggio e dal mio merlo Romeo. Ciao. Ragazzi. Ciao. 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 Grazie.